Noi siamo gente per bene e stiamo bene a casa nostra. Adesso Tommaso Girardi trema. Non è iscritto nel registro degli indagati, ma l'inchiesta aperta dalla Procura di Parma per banca rotta fraudolente in merito alla situazione del Parma Calcio potrebbe presto vederlo coinvolto. A tremare non è però soltanto l'ex presidente, ma è anche l'attuale direttore generale ed ex amministratore delegato Pietro Leonardi, colui che insomma, insieme al patron, nel Parma degli ultimi anni decideva su tutto e non solo sul mercato. Il reato di banca rotta fraudolenta venne contestato ad esempio a Luciano Gaucci per il crack del Perugia risalente al 2000. L'imprenditore Umbro ha patteggiato la pena a tre anni di reclusione «20 mesi quelli inflitti e i figli Riccardo e Alessandro». I magistrati accertarono distrazioni dalle casse del club per 80 milioni di euro. Ora gli inquirenti parmigiani intendono fare luce su eventuali malversazioni in casa Parma, sul Parma che incassava i soldi dei diritti TV, che faceva plus valenze milionarie grazie alle cessioni di Giovinco, Pellè, Borini, Sansone e Parolo, ma che si è ritrovato incredibilmente a non avere più un euro in cassa. Anche di questo si discuterà stasera nella 24esima puntata stagionale di Calcio e Calcio più, l'approfondimento del giovedì della nostra Teleducato, in onda come sempre in diretta a partire dalle ore 21. E intanto suonano sempre più beffarde e sinistre le parole con cui Tommaso Ghirardi lo scorso maggio annunciò la sua uscita dal calcio e le sue temporanee dimissioni da presidente del Parma, lui che si presentava immacolato nell'inferno del pianeta del pallone. Noi siamo gente per bene e stiamo bene a casa nostra.